Elislein, segretaria nazionale del Partito Democratico all'Aquila a sostegno della candidatura di Luciano D'Amico come prossimo governatore d'Abruzzo. Prima dell'evento ha incontrato i sindacati, un patto per l'Abruzzo che abbraccia una coalizione ampia che va dal Movimento 5 Stelle Italia Viva. A livello regionale dunque il centro-sinistra si presenta a Coeso, un modello replicabile anche in altri territori. Ha parlato di cose semplici la segretaria nazionale del Partito Democratico su tutti i temi, la sanità ma anche le infrastrutture. È il momento di cambiare, è il momento di puntare su ciò che è stato lasciato indietro a partire dalla sanità pubblica che soffre. Questo vuol dire carenza di medici infermieri, vuol dire lunghe liste d'attesa per fare delle visite specialistiche. Noi ci stiamo battendo con il Partito Democratico per mettere più risorse sulla sanità pubblica universalistica. Il diritto alla salute degli abruzzesi e degli abruzzesi è fondamentale così come far ripartire gli investimenti, il lavoro e che non sia lavoro qualsiasi ma sia lavoro di dignità. Non abbiamo sentito alzarsi la voce del presidente di questa regione quando nel PNRR il governo di Giorgia Meloni ha deciso di tagliare il 40% delle risorse che aspettavano a questa regione per infrastrutture importanti, vitali, strategiche, penso alla Roma Pescara. Luciano D'Amico intanto oggi ha incassato pure l'appoggio di Generazione Insieme, un coordinamento delle realtà giovanili abruzzesi che sarà a fianco dunque del candidato del centro-sinistra con il patto per l'Abruzzo per le prossime regionali di marzo. Un grande impegno per scrivere insieme a tutte le abruzzesi e gli abruzzesi il programma di governo, vogliamo condividere sin dalla fase di scrittura del programma la nostra azione di governo, l'azione di governo che proponiamo all'Abruzzo e poi un grande impegno per ascoltare i problemi, cercare insieme le soluzioni e convincere gli abruzzesi che la nostra proposta di governo è migliore. Grazie a tutti.